Speriamo che si senta la notifica, che arrivi tutto, come sempre. Eh sì, è arrivata la notifica, facciamo un test audio. A me no. Ah no, cos'è? Non lo so. Ah, mi è arrivata la notifica. Hola, Angelo. Hola. Lauretta. Laura. Parla, sì. Sentire, si sente, Andri. Kaylee, hola. Buona a tutti, ciao a tutti. Mille notifiche. Andri. Mille di mille notifiche. Hola Kaylee. Sì, sì, sì che sei oltre, non ti preoccupi. Hola, hola. E ho il test. Perfetto. Luca, Saretta. Ui. Ui. E qui ci siamo. Sì. Come state tutti? Che tali stai, chicos? Io chiedo di dare un tu in spagnolo. Laura, come ti? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ratti, devi scrivere come. Sei. Tutto attaccato. Sei. Tutto attaccato. bene bene voi no molto bene Kaylie qui saremo in 30 minuti si conecta che fa debere mer super hola Matti benvenuto hola benvenuto qui siamo esatto Ratti così si scrive però come? è la prima volta che viene spiegati solo un secondo che se cambiiamo l'idioma è una cosa normale ah si Fulmati spero che non ti sorprendas molto qui nel stream parliamo mesclando molti idiomas al mismo tempo e cambiando molto rapidamente aspetta sì 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 se tiene che parlare se tiene che parlare non si scrive in spagnolo e ti vabbiamo parlando tranquillo e sicuro se hai qualcosa di utile o interessante lo vabbiamo a traduzione in spagnolo anche chi è? vegeta? ma è italiano no? minchia è tornato vegeta io non c'ero il giorno che ha trovato il nostro canale ciao vegeta vegeta l'altro giorno l'ho chiesto di te lo sai per l'ennesima volta mi pare che era duca come? ma vegeta non torna più non mi ricordo chi fosse stato sì è vero qualcuno ho chiesto io gli ho detto infatti chi è vegeta? hola hola quando inizia? quando inizia cosa? eeeh buah grande sve non vedo l'ora ah dice kate che pizza anche oggi mi dice che sei offline ma come sono offline no non vuole più giocare con me kate non vuoi più giocare con me ciao 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 tu super bene? sono buone notizie noi meglio che ayer questo sicuramente è bene come ratis aveva comprando la switch? sì sì non mi ha avviato questa strontata ma è vero? questa strontata E dov'è che non sto giocando? Nooo Anche Andri li esce offline Ma che cosa? Lo stream o...? Ma cosa è offline ragazzi? Io o lo stream? Vale, formati meno male, questa era la nostra intenzione Dile che se vuoi giocare, mi unisce Si, si, si Prendete il codice nella descrizione E vedrai che con il tempo, se stai facendo uno stream, si acabas... Aprendendo, si è chiaro Almeno la gente, per l'esperienza che stiamo vedendo, le sta passando questo Allora Non è vero Come fai a imparare cinque lingue? Guarda, questo che le si chiederà a Jay Io ne so tre di cui due parlate abbastanza bene e una maccheronica 50% è fortuna della vita e 50%... come si dice? Ponere mucho sforzo Sforzarmi tanto Avere voglia di imparare Tutto tutto Laura, Saretta Y ya sta Conmigo dos mujer Yuhuuu Non sei... Mamma mia, mi dice che adesso non sei più offline Pippiri, pippiri, pippiri Claro, claro, ma in serio, eh? Si, guardate, arriva nel chat Hai alcun italiano che sta scrivendolo in spagnolo Si? Eccollo Il che non è Tomas Il che non è Non può essere, no? Hola, che tal? Hai la falsa waffe? Ah, la rosa da Oh, la richiesta di amicizia Ora vado a citare Wolltchaft anfraga Ostras Si ragazzi, non può essere che In maggioranza lo vedete online Quelli che lo vedono offline Mi state sul culo! Mi state sul culo! Mi ha beccato! Volevo solo dire che sarà colpa del wifi Nient'altro, non credo Ve lo giuro, ve lo giuro Oh! Ma una sinistra! Eri! Signor! Ma una sinistra! Iri! 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 Se ha movito! Iri! 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 Oh, oh, oh! Lo sapevo! E ora? Ora, posso cargarlo, posso vedere? Veloz, veloz! Veloz, veloz! Chi è? Chi è? Chi è? Ah! Motti! Ora si viene venuto, è vero! Tiene un montone di gioco che noi abbiamo anche, mi sembra, Rock League Tambien Discord Ah, si, Full, Full Matti, non so come chiamarti Mi gustaria chiamarti Matti solo Full Full? Si, c'era un ico di che si chiamava Full Ah, si? Fíjate tu Pues Full Full, c'era Full, c'era Fatal Fatal muore un montone Full, también tenemos el Discord Perché dillo, lui ha tanti giochi e noi sul Discord si vengono più di 100 persone Tenemos un server con unas 100 personas E abbiamo visto che coincidiamo in molti giochi conti Mucho, ¿seguro dos o tres? Sí, he visto tres Que ya más que la mayoría No, la… Oh, la Victorina Andri, vegetation learned… qui do SI, chiaro, sì, sì Victorinho Hola Oh raga per fortuna che si paga l'online Da settembre Io non vedo l'ora Sto pagando, pregando Non pagando Si si Ragazzi ma guardate che se abbiamo poi un servizio Server proprio non è male Guardate i lato positivi Ed anche non penso che tutto Al mondo che abbia Splatoon Guardatelo più che l'altro nel lato Nel lato Playstation O altre console Che hanno delle community enorme E noi qui invece che ancora non abbiamo una community Allora Mi uno disco Al tiro Grazie Si amiche Immaginate di poter giocare bene a Splatoon Senza persone che cadono Perché semmai fanno già affidamento A dei server propri molto più vicini No dai Ragazzi sono dei benefici enormi secondo me E scusate che lo dica Ma penso anche che la gente Che realmente non si prenda sul serio Splatoon Non andrà a pagare E quindi Non ci disturbarà Giochiamo solo gente che gioca Gioca veramente Almeno io la vedo così ragazzi E ragazzi Non è caro 30 euro l'anno Ma dai Neanche 29 Ma si ma 30 euro l'anno sono 2 euro e 10 al mese Dai Guarda quanto costa l'acqua L'acqua è gratuita Dobbiamo pagarla E magari loro come più giovani Non voglio dire bambini Ancora non hanno sviluppato Questo da vedere Da sfruttare Il lato positivo Tanti dicono Semmai minchia devo pagare Capito E sono stati mal abituati Dalla Nintendo Si può essere Perché io cosa ti ho sempre detto L'unico errore della Nintendo Qual è stato Che non facevano pagare Basta Basta Quindi non stai dando Un'importanza al gamer Ma no Ma che al mese Sono Ma che al mese Ma si ma che cura Oh raga raga Scendete dagli alberi Per favore Oh veramente Non credete alle stronzate Che la gente Dice in giro Perché o non è ascoltato bene Vegeta Sono 29 euro e 90 all'anno E niente dai Sono 2 euro al mese C'è gente che si spende 60 euro in Rocket League Per comprare Di fare le casse Ma dai Ma dove trovi Ola 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 Che che Perdona che che Ui che 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 tal Tutto bene Odo bene Oddo bene Ma non Nunca mai Viene a jugar conmigo Che che cattiva cattiva laura ok, Vegeta se lo sta pensando Vegeta se lo sta pensando perché dice che cazzo ho letto io o cosa ho sentito io no ma Vegeta sarebbe un'exagerazione proprio nessuno lo farebbe anche in più perché sono quasi tutti bambini ma neanch'io lo farebbe 30 euro a me mi dà 30 euro a suo figlio per giocare mi compro io un server e faccio io uno online con 300 euro l'anno chiaro? scusate ti compri un server e fai tu l'online per 400 euro l'anno ok Bone ciao Buffy che tal? subito no c'è un cellulare sotto carica guarda subito no c'è un cellulare sotto carica no c'è un cellulare sotto carica ok, Laura, questa è un cellulare sotto carica no? Mi chiamato come... Ok, non è niente, o no? Un sarete anche di stato un splatt muto omisano Ah, stanno facendo lega Hello Lennox How are you Lennox? Apart from being always the first in the comments Ok Avete visto? Hai visto Ale? Cosa? Tipo, un dice che sei visto che 42 lui stanno facendo lega No, sì, l'ho visto, l'ho visto e sto già... Stai già? Stai già mettendo mico Stai già mettendo mico, dice Ok Laura Caleb Amico Caleb Che tal? Che tal? Cosa è? Che ha un Nintendo 3DS? No Credo che il Nintendo 3DS ce l'abbiamo tutti Ma Mako Mako? Ma... Stai già giocare Non c'è gioco Non c'è gioco Non c'è gioco Non c'è gioco No, 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 no L'orizzonte si va E l'orizzonte si va Hai detto un po' quel bot l'ha detto? No Perfetto Che tal? Che tal Mako? Questi giorni ci siamo chiesti dove eri No, ragazzi Sto morendo in continuazione Ok Questo non è giocare Splatoon Questo è cercare di sopravvivere e uscire dalla base E che lo stavo ammazzando Quando ti tocca l'ombrello quello che se ne va avanti per dire Ti splazzano Pensavo che ti spostava Aca A che mi esplata? E' un gusto stare aca Grande Con la ca Abbiamo no? Aca, si Machino mio che stai sulla Puglina De Mati Che è molto pro Ok Ora allora Si, oggi è il giorno di reazione Cioè, Kaleb Quindi tutto pronto? Tutto pronto? No Io no Io no, chicos Tutto pronto per la reazione Non voglio gridare Non voglio gridare Non voglio gridare però Questo è il problema Non voglio gridare perché Tengo la garganta abbastante Che è Creepypasta Welcome To our channel Hello, welcome Eh ma la reazione Eh ma la reazione non tiene che ser pronto eh Mati, mira che Eeeh Nosotros Creepypasta Hi Creepypasta Ehm I'm watching your video The first video Oh my god, what a face Sì Yeah Ehm 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 Cosa è successo? No, no, no Quanti siamo? Quanti siamo per giocare? Ci siamo già? Ehm Può essere Se tutti quelli che ci stanno qua giocano sì Ok Back, 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 back Cosa è vero Vegeta? Rispondete Pris Ma quindi è vero che adesso... Ah sì Chiaro che è vero Cosa? Chiaro che è vero Andri E' quello che si paga 2805 Ah 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 Juli Ieri è entrato Juli Tendo Ieri e l'altro ieri Non mi ricordo Creepypasta Welcome To our Server Discord E' letto di Calamago A proposito di Creepy Dove è Juli? Non si sa, no? Ti ho risposto prima No Ok Ecco perché Ho detto ieri che è venuto l'altro ieri O una cosa così A trovarci Ok Ai 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 Carla su Discord Carla su Discord sta scrivendo Carla Velasquez su Discord E sta scrivendo algo A ver Cate non ti vedo online Per favore Puoi uscire dalla stanza Ah sì, Caleb? Claro Carla E noi stiamo parlando Che tu Vendrai Con noi Quindi quando tu entri Carla Stiamo parlando di ti Sicuro Sicuro, sicuro, sicuro Ok Quindi, ragazzi Diamo il benvenito A nostra amica Carla Eccola qui Ciao Ciao, Carla Ciao Ciao No No Sei contrassegnata Che tale sta Puoi fare di meglio Però è che se scriviamo molto in chat No, tranquillo, tranquillo Tranquillo, scotch Tanto stava silenziato Silenzioso È morto, poverino Poverino Uiuiuiui Uuuu Uuuu Non so Vegetta, davvero Ah no, no, aspetta Arriva Più su, più su Non so cosa aveva scritto Tipo Reazione della donna Oh, raga, raga Non mi lasciate da solo Ma Si lascia quello con il bazookarpo da solo Si, certo Tengo mi switch Che? Ah, io quasi prima era Madre di E' mortina prima e l'ultimo pensato E' quando arriva Tengo mi switch E' l'esma Ah, vale no Jolín Espera, primavera Primavera significa abril? Karla? No Che haces? Eh? Che haces? Perché veramente c'è un live Ah, ya, 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 ya Toma, ti pongo il microfono qui cerca Asi se te oye tanto Claro Tu pensa al chat Perché se no me baja demasiado la Si, si Aiuto Si o que scotch? Quando è la tuya? Marzo Marzo Però marzo è già? E' la 17 marzo Ah Pues mira, este mes creo che hai Minimo 3 persone Del canale Minimo 3 persone del canale Che vanno a tenere la switch Ah, ah Che guai Eh, qual'è il bazookarp? Ah, c'è anche loro Vegetta per quello che avevamo detto ieri Che qualcuno aveva chiesto di te E' lì il bazookarp in mezzo Lo so, lo so, lo so Lo so, lo so Sto aspettando che si muovano anche loro Ya Chiedo che il controllo è che è difittoso, sai? Si? Mamma, ma sei veramente terribile Provo a giocare dopo con il mio Oppure anche che non sappiamo del pennello Es che ti ho provato un'arma Perché io con l'aereografo non mi è passato Eh, ma non schiacci così tanto dietro, eh? Ya Ah Ya sta Ya sta, Vitto Perché tenia, se è Il collegamento diretto con la fuente di color Che stavi sparandola una ora Wow Wow, full En mayo scotch Però boom, boom Laura, boom Tendròs tu reaccion, Pedro No te preoccupi Quando tengas tu switch Tendròs tu reaccion Eh, qui non fa... Bueno, qui in España non è la costumbre, Carla Di che? De celebrar San Patricio? San Patricio? E questo non è quello che gli irlandesi celebrano con lo del gorrito? No Per decidere di una maniera molto inculta Ah, vale, per chi ha la switch, Carla solo ha bisogno di fare buoni noti Sì Pagiamo i professori No, ma io non credo che non hai problema Da buon italiano paga i professori Qual è la contrassegna? Sì Ehm, credo che... Tanto animo un partito a uno e voglio reiniziare Sì, mira, va a fare un partito a uno e la reinizio Cada due reinizio io E comunque la... Esatto, scotch Creepypasta Ah, tu sei americano Tu sei americano Tu sei americano Tu sei americano Ehm, qual è il password Il password del PrivatCamp? 2805 Dilla, dai 2805 Pau 2805 Intentalo 2805 2805 E' un ritmo tropical Ashley e Laura Anche Laura Ashley e Laura Ai 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 Volevo a essere fabbrica Ashley e Laura E tutti giocano E tutti giocano E tutti giocano Per cui... Perché nessuno mi difendeva quando avevo un po' di scopo Questa è una cosa che... Che nessuno Può stare giocando quattro persone e i quattro accusano agli altri di non averli protetto Mi sa che è una malattia di Splatoon Tranquillo Saretta... Ai tranquilla Saretta? Scusa non avevo letto il nome Io ogni volta mi incazzo e poi... Può essere che... Penso che li sto proteggendo e in realtà non li sto proteggendo No Minchia... Di livello estremo già Non lo so... Cambiamo il posto? Sì Anche se... Allora... Eccomi qua Sì? Eccomi qua Stavo... Stavo... Stavo giocando lontano Perché tengo un problema al Pro Controller Allora... Quindi... Ci sono volte che solo... Se va Se muove e si va Se muove e si va Se muove e si va E io non posso fare niente Se va Quindi... Che è? Ah ok Ah ti buono? Ah ti buono sto facendo lega con... Ah cool Laura Hai sempre il blase roto? Questa è la versione del Gnome Wow Erano due Erano due Guarda Joy E gli altri due lì Ma chi è Joy? Joy Stanno anche in chat a volte? O... In stream? Scornismo stai perdita Andiamo... Che ti dici? Pregunta Pedro che era una cosa della collaborazione Che dici l'altro giorno al Discord Eh te l'ho detto Quando facciamo qualche estreno o qualcosa Se vuoi vederla In Discord Li mandiamo Lo facciamo con Per esempio Eh... Discord stesso Facciamo come abbiamo fatto oggi Con... Chiaro? Parlando? E la parla? Si Si Ah si da un'opinione e un'esterno E... Però vabbiamo a parlare... No scocci Vabbiamo a parlare in Discord Questo Tranquillo che... Non è un'opinione e un'opinione e un'opinione Ti ricordo che io non ho parlato italiano Lo sai 5 Lo sai... Lo sai... Ma non è un'esternata qui no? Si Vale Eh... Eh... Non lo sai... Lo che ti ho detto è che lo parlarei per Discord Quello non lo dice l'italiano Verdad? Eh... Però se lo dico io con il mio botte spagnola Sentiamo il vero La compagnia è una sua la sua la sua la sua la sua la sua Ma... Che dice? Che la roma è piena Eh... Si dili che dopo questa la rinanziamo Guarda come si abbassa No chicos che... Tengo che cambiare il controller perché in serio non me va Si Lo baja troppo, mira Si, si a volte quedando preparato se ve Si io sto motivato... Si motivato io sto al 30% Però la vita... Voilà... Io mi tuffo Se tu vuoi matermi io mi tiro Guardatelo Mejor... Morir avogato che espatato Ok... Bene... Che partita di merda abbiamo fatto Questa è che nascono la intriga Che partita di merda ragazzi Che ne sta? Full matiche? No, no, no Io ho giocato malissimo Malissimo, malissimo È stata una delle partite più brutte che avevo fatto in tutta la mia vita Che stia Non puoi cambiare adesso il controllo proprio? Aspetta che avevo fatto io No, no, no Tendria che... Eh... Risincronizzarlo tra me e tutta questa minaccia, no Figurati ho fatto la partita più brutta della mia vita e non sono stato neanche ultimo Ah, poi sì, Carla È buona idea Sì, sì No? Per un apartato solo per lo dibuixo o lo... Cosa? Ah, vabbè, poi vediamo Sì, sì Quindi il nuovo codice sarà Perché si ria, Caleb? Perché sono ipotetico? 35, 70 35, 70 Prima che finiva la partita mi sono buttata in acqua Anche te, Sanetta Venga, venga Ho fatto un po' di cacca Ho fatto proprio tanto Ne ho fatto proprio tanto Deutsche Leute, codice 35, 70 Ok, avete esato Beide Ehm... Full e Joy Los ultimi nella prima esperan sempre e nella seconda juegan sicuros sono youtuber ma lo so si zona splat sareta minchia infibrillazione per la zona splat anche a me piace e spaduluno lo odiamo è strano eh nivolo 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 minchia ma cosa ti è successo sono cresciuti tipo tu? hai capelli lunghi ragazzi hai capelli tanto lunghi femenina no? una youtuber una youtubera sono una youtubera che? io no oh io Anita mi è venuta in queste canna però mi sembra un tonno che dopo sai? non lo so maco maco sta pettinando le galline ragazzi aspettate è vero ma dove è maco? pettina le galline sta giocando ma lascia le galline per dopo ma anche le capre no le pecorelle le pecorelle anche stanno bene un attimo senza sentire maco maco perché maco am i colori ah fíjate curiosidades della vida ok dice Carla io ando pensando anche in un logo del clan come dibuixarlo tengo una idea però non so come plasmarlo madonna hai visto che Giro ha fatto il controller si mira 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 lol mi ha saluto un lol di questi moderni lol che significa laughing out loud che sicuramente mi potrei reire e significaria lo mismo che lol vale mija Kate ti odio te lo giuro hai più gente incluso sabes Carla che sta con il mismo plan che tu no Tibone già sta disegnando il grafico sì di hecho Tibone lo sta facendo attraverso l'ordinatore che è un altro medio però vamos qualche cosa sempre sarà benvenita e apprezzata no no prese in considerazione sì e tomata in considerazione claro mija 22 persone qualcuno qualcuno non si è iscritto sicuramente ci sarà però non si non sta in un momento non so ok luego lo miro ora lo miro nada eh nada eh nada eh non si bloquea qui me sta immaginando a poco vestido di inkling per se lo mirava jolini però è che è un rollo che tengas che sincronizarlo però se no seria un momento cambiare no va bene nel prossimo streaming lo poppo colpio sì nel prossimo sicuro però non so entendo la switch non vale la pena tipo creepy thank you mi è arrivata proprio in faccia è presente sì bueno è che ti ho sinto hacia ella ma perché ti ho sinto hacia atrás no 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 qui è stata Kate mamma mia Johanna, Johanna, Johanna non so se vedi quanta persona se Jess ora deja di mirare il chat, per esempio e viene a jugar contigo io tengo che cercare il chat così di chiaro e hai solo che ascoltarmi senza poter scrivere, perché Jess sta giocando Salmon Run hai che tenere in cuenta che lui può dare risposti perché io se las leo molte volte molte volte le leo ma quando faccio stream solo però non gioco quindi può essere la prossima volta con una room e io vieno a jugar in serio dico non so se l'ho oído perché al final venga Caleb, che il rato sia corto por favor si va bene tanto noi come sempre oddio, ma che è stato? minchia Katia ti odio Katia veramente basta, basta no Katia guarda come se basa questa merda di controllo si può essere un veterino mira come se baja questa ala che rollo lo state vedendo lo stais viendo come se baja la visual non è il che sta triste e miro al suolo Vini hola che tal vini vini io anche ho pensato non è che se ha ido a qualcosa al interior del controller che mi ha fatto questa merda non lo so non lo so però per bajarsi non lo so è che si è stato l'ultimo 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 che mi ha fatto l'ultimo 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 qualcuno si ofreste volontario per dire che è il no no tui E già sta. Ah siete... Quiero ser felice, quiero ser felice, felice lo quattro. Vale, Adriante, vas a dibujare, in serio? Quedate, ombre. Che è sezzo? Quick, quick. Quack, quack. Cosa? Mi sembra che c'è la cosa. Quiero ser felice, quiero ser felice, felice con Marco. Pussy, 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 pussy. Pussy. No, te stavo dicendo pussy. Ah? Bebe. Eh? Sei veramente tanto bibbi. Che bibbi? Che sarebbe? Bibbi. Ah, bibbi. Dai, dai, dai. Saretta ce la fai. Ora basta. Ora silenzio. Che stai facendo? Vale. Reaction E via A full Così Tutti sordi vi voglio ragazzi E adesso una bella Bella reaction Andiamo a vedere Bufu Mati Vai Lo stream è tuo Il stream è tuo Mati più che puoi E puoi più che mati Alla Fluido fluido E tiene la bolla di Mako Come arma Boom E ma credo che E abbia proprio un Mako E secondo te mi viene questa arma Questa sarà una reaction Muy 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 pesada Perché Nell'altro lato Hai tutti i codi E ora No? Disponibile E quindi se vanno a perdere i codi È full È super full Vai full Stiamo tutti contigo Mati e questi quattro bichos E gana per me Per favore Via Anche lui Ha comito hace poco Quindi barriga piena Subire il bus Siempre ti dà un pochino De Bella È spattata Che è È molto molto bene E non che E muove con la bollita Però E l'altro sta Eccola È Laura Sì È il nostro Mati Che è una Glià è un amico Tambien Anche se No No è smuccio Che lo conosco Sempre Oh Mi gusta Sì Come salta Mi gusta un montone Ragazzi Questa è la bestemmia Mako ucciso Dalla sua stessa arma No 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 Sì 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 Vai 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 Tutti fuori E Andy Sontes Mi dice Mira ti voglio essere Una reaction E lui dice No no Non stai preparato Ma come non stai preparato Dio In serio lo dice Entonsi quando ti prepara Dimmelo che no Io decodecuare Vale Dale Sì Vale No passa nada El Victor Ole Ah sì sì Hace Los ultimi 40 segundos Sì sì E piensa en pintar En todos lados Claro Sabe Un poquito Lo que da puntos Se tiene Se tiene Que pintar Oh Wow Que lectura del juego Chico Ya ves What's up Y dale Ahora Muy bien Ese uso del curling Que arma es Tiene las dos armas Perfectas Sí Tiene el curling Más la bola De cliché Es la nuova 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 ¿Qué dice? Sí Sí, el azul ¿No? Entonces Después de una reacción En esta manera Yo no puedo decir nada Puedo decir que ha sido Una de las reacciones ganadas Sí Porque No No ¿Qué? No, no, espera No, no Sí, sí Ha ganado Ha ganado Es que estamos viendo El otro tipo Siempre hay una confusión Cuando pasa esto Sí Entonces A ver ¿Cuántos? Es una de las pocas Que se ganan Wow 12 Bien, bien, bien Bien hecho Full Sí No, no ¿Qué? Eeeh Scrapeleys Oh Kaken Get good Un baño Oddio Ragazzi A ver Sí Un segundo Che pongo Subito Subito El video Para vosotros Jugadores Yes La de me un segundo Anzi faccio Faccio partire Faccio partire un'altra Partita Io aspetto un secondo fuori Oh Mati Por Motivo Motivo Costituzionale Tu me irás A entender E Marco Ha dovuto Anche scrivere Nel chat Ma la palla Mi ha ucciso Ma la palla Mi ha ucciso Pensaba Que era imposible Full Mati Eeeh Eeeh Tempo André A ver Dice Es el Tintarador Ligero O no Es la nueva O que Full Mati A que os parece La idea Lo de Alguien leyendo Comentarios Para cuando Este Alex Solo O cuando Quierais Jugar Los dos A través De Discord Eeeh Alguien pro Que tiene que hablar Muchos idiomas Muchos idiomas Claro Porque si no Es un poco La idea No está mal A priori La tenemos En cuenta Pedro Gracias por pensar Claro El video Está subiendo Ahora mismo Chicos Who but Lizak Hello Hello Lizak Hola Firestick Hola El El chico Que ayer Me ha dicho Que Su madre No quería Que buscaba Conmigo Anda Firestick Hola Emi Hola Que lastima Y Entonces El stream Si te lo deja ver ¿Cómo es Que no puedes No Te explico Ayer Ha jugado Por 10 horas Seguida Dios Entonces Pasa Que Pero El stream Te sumando Que juega Con nosotros 10 horas No No lo sé Yo solo Ayer Lo he encontrado Por la primera vez Bueno Que tal Todos Los nuevos Bienvenidos Aquí Rip Oído Izquierdo Ah vale Pao Gracias Si Que le ha dicho A mi me ha explotado la cabeza Y me ha salido un bonito arcoindis Mister flame Chicos Que grita así Que me ha enseñado No es cosa mía No no Es Somos admirador De Que no es el primero Pero porque Es uno de los pocos De Italia Que grita Porque te digo Que también También Nosotros Ya La palabra Reaction La usábamos No es una cosa Todo el mundo Lo usa Todo el mundo Esa forma En la que Yo gritaba Más que nada No ma con Enzo Ya la llevamos así Más que nada Es claro Siempre la confundo Tutto questo È illegale Marco Non deve morire È una cosa Illegale A ver A ver A ver A ver Sì la ver Sì la ver Sì la ver I gana El equipo De Che pisareta Bignam Il laurel Nueva room Chicos Come è possibile Una nuova Amicizia E vai La nueva room Tu fühlsi Schlecht Tu has gewonnen Tren Tendrá Non fühlsi Schlecht No Wow 42 A 1050 Oro Di Splatoon Madre de Dios Ed ha Ancuna Vita Ragazzi Eh Nos han dicho Che tiene Una vida Propria Reaction Doc Sareta Mi pulizia Mi pulizia La caccia Chi è Marco Cancellalo Chiunque si è stato Scrive Questa cosa Cancellalo Dei amici Cosa ti ha fatto Ti ha esplattato Vero Marco Ti ha esplattato Vero Sì un secondo Che vuoi accettarla Un secondo Che entrano Personas Sì un secondo Il video Che sta cargato Perfetto Perfetto Ok Bufo Ah è francese Firestick Si Non si entiende No È francese Però sua abuela È spagnola È spagnola Perfetto Perfetto Ok Ora Aceptiamo Io ho tutta la cronologia De questi ragazzi E anche Donde Va a comer Uno Dos Tres Staraparapapapapa È il che Tambien Un dibujo Adriano Che Allora L'ultimi due Dili Creepy Creepy And Joy You'll have to Be spectators For you were the last Two of each team Hope you're watching The cool players we have here right now Io non picco nessuno Al massimo di splatto Hai visto? Quello che ho detto io È buono Fire Tienes che sperare Che inizia il partito Ti puoi accettare Entiende? Mi entiendes? Ah, poi io lo voglio vedere Cosa? Si, inviando Poi, io tengo curiosità Dejami solo vedere rapido Il che? Todo il mondo sta enviando dibujos Adria, sei del Barça? Si, Adria Eres del Barça? Ah no È per i colori della Switch Tio Credo No, no Non tiene questo colore La Switch Scusa Ho aperto un messaggio Scusa Guarda Ormai Con la Switch Quando dice amico Ho iniziato a giocare Però senza di voi È molto male Sve Dovresti entrare Ma non è qua, no? Mi sa Nel senso Certo Non è qua E Ratti dove è? È qua ancora? Mi sa di nuovo E Ratti sta giocando ancora a Roblox Sicuramente Perché gli piace A questo tipo Incredibile Erano due? Non uno Direazione di nessuno Ma Ma Sì Mi bulletti così tanto Che quando finisci l'inchiostro Metti via Addirittura l'arma Ma Guarda È scema Sto ragazze Io pensavo di averlo fatto bene E guarda 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 cosa mi trovo Un maco E Sarete è molto intelligente Perché dice Non posso Tirare l'arma Del gioco Sennò lo farei Non volevo ammazzarlo Sai Perché E lui era il mio amico maco Ma non Non si è affettato A Fire? Ah no Fire Fire Ostrica È Dimenticato Forgotten Eh? Sicuro non è Fire Sai Mi sa Sì No Sì La unica La Japan Sì Ah ok Ok Jolín Pues passer del Madrid Y cogerle los primeros colores Que te viene a la cabeza Y coges el azul Y el rojo No sé qué decirte Qué curiosa esa psicología A nosotros chicos Que conste que el fútbol Nos interesa como Menos 50 Solo nos gusta Rocket League Que mola Pero la idea Si de mi partido Lo estaba dando Y cogerle los ahora Eh? ¿Quién hay ahora? En la partita Che è stato? Mako Ma da dove? Ma come? Ma perché? A velocità E la velocità In persona Mako Quando ci riesci Ma bevete en culo Tanto c'è sabato Bestiale Non riesco a ammazzare nessuno Non riesco a ammazzare nessuno Non riesco a ammazzare nessuno Prova una trama Così per caso Sia anche scende No non scenderà sicuramente Cioè scenderà sicuramente Ma non così Perché così devo schiacciare tante volte Capisco capisco E si disincronizza così Non so come sia possibile Non so come sia possibile È strano Calcola salgo E va giù Perciò adesso Ho metto Ho metto La merda del cavo Perché mi sto incazzando In una maniera Impressionante Svegli E stavamo appena Appena ti abbiamo parlato Qua in lo stream Come si fossi qua E abbiamo detto Ma non è qua Come stai Sorry guys Sorry guys One moment We had just two Oh my god A problem with the controller Yeah But it's fully Off battery The battery is full But we have still That stupid problem That our visual goes down Has anyone of you Ever experienced this? Oh chico Un po' sotto S'ha passato ad una verde Sì Ad una Un poco Inesperato Donde? Qua Un po' inesperato Però Ah vale Boom Boom Allora Allora Aiutiamo a svegli Un attimo Ma raga Non mi crea L'account nintendo Ma Allora C'hai già Un account nintendo O lo fai Chi era l'ultimo? Frank 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 Crealo Sì Dai Ma che doverti fare Il monologhista Oh Saretta Aspetta uno tu Mi ha aspettato Cinque volte Ed era l'intura Il mio Se no Mi faccio uno in più Sì Non so Ma è un'ora Che hai fatto Non vuol dire quanto Ma io Non c'hai Adesso andai in un quadro del tempo E ti guarda Tra un'ora E ha De spazio Ma Laura Che è uscito Handicap Match Marco Pau Vinia Il codigo era Questo non lo stiamo facendo entrare Il codigo Dile che ora Empeziamo la stanza 3 No? La seconda è questa Sì Firestick Hacciamo una room Della palomita Madre mia È collassato Secondo me È bo Oh no Scusa No Hello everybody watching We also speak English here So If you were asking yourselves If we do There's the answer So you can Write in the chat If you want To Foto It's a bone It's a bone Fai giri giri Si sente il senso Però a 30 secondi lo passo 30 secondi lo passo Via A 4 passiamo un altro Uli Con esse Jet Splat Nesse caso Jet Splat Buon appetito Handicap match con Menos uno Si Siamo che Handicap match S Sono tutti uguali E adesso andiamo a vedere Adesso andiamo a vedere Adesso andiamo a vedere Seguente WAPA Creepy No No Non è andato Buon appetito A te levi Creepy Non lo conosciamo ancora No No Bana 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 Perché Credo che la differenza Sta I Claro Ce l'ho fatta Wow Come ha scappato Dessa bomba Perché ha Aterrizzato Se ha andato la bomba Non dove Iba aterrizzare Praticamente Ce l'ho fatta Ok Svevi Guarda Adesso a tre minuti Passa la squadra avversaria Il replay Ma Svevi hai preso Splatoon Scusa Per chiederlo così direttamente Uno Si no Vai Paolo Hai preso quella di Splatoon Alla fine Integrata no Svevi ma sono su Su Discord Tutti i codici Sono su Discord Sve Inizia ad aggiungere Che ne so Il mio Poi entri nella mia room E ti aggiungi tutti Le persone che sono Già nella mia E ragazzi Non c'è bisogno Di inviarvi Perché sono tutti lì Proprio Almeno di quelli che Di quelli che è il calcio Che ce l'hanno scritto Dai Binia No 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 Della semiconda Che mandano Sì ombre Vuoi mui mal Pedro Dale Binia Come non c'era Non c'era Non c'era quella di Splatoon E quindi Quella hai preso Svegli La neon Grande Grande Binia Grande Binia Vai Maco Tuo Quanto si scello Dopo aver ammazzato suo marito L'unica cosa che poteva fare Era Buttarsi giù Quella bulla rossa Non te l'ho detto Si lo sto mirando Si lo sto mirando Ya Vamos O no 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 Me creo Que lo has hecho tu Tranquilo Ok ok Pero Pedro Has probado En usar Carboncillo En vez de lápiz Creo que Ganarías Mucho más Profundidad Porque la forma Está bien Me parece a mi Ok Carboncillo Que se usa Como un lápiz Solo que Como tiene Diferentes Tiene un negro Y no un gris Le das más vida A los dibujos A mi me cambió La vida Cuando se empecé a usar Quella blu E' rossa La neon Ah si Quella che ho io Si E' la stessa Che io Sveri Non so neanche Che su E' la stessa Che io No perché Chiaro Come abbiamo cambiato Quelli No Si infatti Si No Saretta Non la vedi bene Perché Credimi E' bello E' ser Spettatore Però è che Pedro Questo non se compra A los chinos Questo se compra A una librería O una papelería Grazie Ola c'è di prima Può giocare Si Ora ve'o Ciao 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 Zik Bienvenido Bienvenido Benvenuta 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 Zik Welcome Welcome Also Only 80 ore Caleb You know Svegli Oh my god Oh raga Ma quanto Cazzo Sono fashion En serio Sono troppo fashion Troppo fashion Ah ti sei cambiato Le ucchiali Fashion 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 Pedro No me creo Che in todas Che ciras Non hai carbuncillos En serio Svegli con la switch Mi sto bagnando tutto E tipo Svegli giura Di non fare più Una gretina Giocando a Roblox Guarda come si muove Mirai Chicos Mirai Come si muove Mal Mi mando Io ora Non sto tocando Nada Nada Mira che mierda Si Si sta girando Mira che mierda Però quando juega Si baja Si muove Si cammina Ya verás Guarda Camino recto Mira Non va recto Se va Perchè la cura Sesta Vale Voilà Ahi voilà Visual Voilà Perfetto No Io Poco agguanto Con 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 Hai letto Il messaggio Svegli Ti spiego Come Scaricare Splatoon 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 Mi ha spiegato Sareta Si Quindi ora Vamos Con il numero De Caleb No Vale Qual è il numero Di Caleb Caleb Puede ponere Il codico Perfavor Tu No ma Lo comprate Crippi The first one Tienes Que calibrarlo Vea ajustes Te dice Vini Lo hai hecho Ho hai provato Todo Ajuste Calibración Este L'autre 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 Nada Full Matisse A mi me pasaba Lo mismo Con el control Lo envié A que me lo repararan No Con el joyco No podemos jugar Scotch Antes le dejo Mi controller Che antes era su control Che palle ho Il telefono E la switch Scarica Sono messa male Hai anche un pc Ancora E mentre tanto Scarichi la switch Ragazzi ma Dovete comprarvi Tutti i cavi Per caricare La switch Così Veramente È molto più facile Comprati il cavo No Non ho voglia Di cambiare arma Non ho voglia Io sono fedele Io soy un chico fedele E te dijeron Full Matisse Lo que era O simplemente Te lo arreglaron E ya está Io creo Che passa lo mismo Le falta Una sponja Pecchina Nel bullano Che sabes Igual es una tonteria D'estas Porque eres la misma Però te dico No No Non puede ser No Está conectado Via cable Ah es verdad Está conectado Via cable Mira Hoy me han puesto Como amigo Nella switch No Quattro personas Si Nella switch Pedro No puedes decir Lo mismo Por dos razones Primero Porque no lo has probado Y segundo Porque no es lo mismo Tio Es que son dos mundos Cuando tengas la switch Lo vas a entender Porque comprate El pro controller En serio Espera 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 Oh Oh Dai Il codice Levatelo Raga Finchio Ma Kate Kate Non hai No Non ascolta Mi sa Non so Oh Kate 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 Sve Discord Discord Il codice Checkate C'è Tutto Quello Che vuoi Si Tenete Sto Problema Con Lo joy Con Con El Ostra Malefica Vale Vale Ya Es que con los joy Con Claro No soy Pro controller Entonces Fijate Tu Ok Que Adrián Tiene los dos Y juega Con los joy Con Eh Porque C'ha la mano Piccola Si Quante Gra Siamo Adultos Io tengo una mano Adrián Que creo Que Eh Mi da De tu Cuerpo Solo Mi mano De la Cabeza Si Es más Es como Tu cabeza De grande Creo La mano Entonces Yo lo joy Lo pongo En mano E me Disapere Si Intenta saltar Igual Aprieta Aprieto 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 Non Puedo Saltar Yo Con Tampoco Y Cada vez Que saltaba Me quedaba Con El pulgar Enganchado Y Me movía A la Derecha Mi gustaría Avere Come reazione Del tuyo Solo Che propone Del tuyo Tengo Che Igualmente Mira Mira Che Merda No No Vini Este tema Ya lo hemos Zanjado Creo Yo Va Que se está Infadando Este Ahora Ya Lo baja Solo Lo baja Solo Siempre Che Ayer 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 Estoy mirando El bajo Pero No sé Si ayer Jugué con el tuyo Y me volvía loca Dice No Es muy frustrante No No Yo Sabes que Propondría Que cerremos El stream Vayamos a hacer Lo que tengamos Que hacer Y Volvamos Luego Con mi Controller No lo sé O miralo Un tutorial O algo Porque No puede ser Que Ahora Le do Un puño En el Televisor Al 90% Mira Mira Si hay una partita De più Basta No 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 Sare Lo Spettador Ante El favor De provar Otra arma Al menos Otra arma No Se baja Para no Para no Guarda Fuf Ya Es que son Royals Ciao Che Che lo Metta Per favore Cosa Ragazzi Pensate Che Voi mettete Il codice Qua E Questa Chat Dopo Rimane Sempre In Youtube Raga Qualsiasi Persona Qualsiasi Persona Accede Alle vostre Cose Abbiamo Fatto Un server Discord Sa quante ore Giocate Tu Non so Ragazzi Pensate In questo E lo Facciamo Per voi A me Non è Che mi Pagano Per Farvi Parlare Sul Discord E se Non lo Vuole Mettere Su Discord Sempre Potete Mandarvi Un Misaggio Privato Su Discord Ma Mi ricordo Di averlo posto O forse Lì Non l'ha neanche messo Ma a me Mi ricordo Di aver Che l'ha messo Piripi Papapapa Friend code Nintendo E Chi sto cercando Non c'è Non l'ha messo Ma E' che la gente nuova Non si sta mettendo più Questo è il problema C'è stato Diciamo Una fermata L'ultimo Adri Per dire Che non è Ah Non è Kate Non è Lei Allora Ti ho messo Di Che l'in Che l'in Si Si sconda C'è Vero 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 Ah Non hai Discord Mettilo Kate Mettilo E' una salvaguardia Nazionale Lo conosci Kate Però Nel senso Sei familiarizzata Io E Zik Fuori Doc Perché non le faccia La sensibilità verticale No T'è uguale Sempre si muove No Ma poi non puoi Vero No No E io E di Massimo Vero Che c'è Frank 22 Marco Mamma mia Hola Jaime Hola Jaime Che tal Todos Oh Programmer Bella Pro Perdonate Non ti ho visto Antes Nostro Saremo Algunas Más E Logo Tambi Vamos a Parar Però Stano Che Volvemo Seguro Puoi Poi Mentere Per Scrivere Reaction Full Mate E Vamos Mirafull Va 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 Scusa Un attimo Non fanno Vumore Frank Frank Vai Programmer Va 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 Cate Non funziona Discord Va 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 che andiamo a vedere Frank o Frank dov'è il mio amico Frank eccolo Frank eccolo come avevamo detto oggi sarebbe stato un giorno di reaction e così è stato e reaction fu e Frank con il nostro mega lullo mega ammazza tutti quanti ulla ulla guardate che simpatia il ragazzo eh però Fulmati non accetta perché dice io sono stato il re della reaction anteriore e quindi Frank è diventata personale la cosa wow si muove eh ragazzo velocità mi sa che ha scelto la sua arma wow non so se hai visto come ha lanciato il piovostrone come si chiama quello che è il piovostrone wow e giù di nuovo e Fulmati dice no 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 Frank di qui non si passa e riparte lui solo con un obiettivo solo il suo nemico eh latino full eccolo sarà lui non sarà lui si gira madre dio come va però le dio maco eccolo maco diceva ragazzi ci sono anch'io sono uno del ligo di favoriti sai no giusto perché siamo qua e Frank solo la terza volta che muore io già in questa partita sarei morto di 16 minimo e maco che festeggia tra l'altro tra l'altro ah ma tra l'altro abbiamo fatto una reaction ok però la stiamo facendo su zona splat quindi si è una reaction un po' differente perché normalmente le facciamo su mischiola molluschiola e noi adesso invece siamo qui ma sta andando abbastanza chiaro si sta prolungando chiaro anche se comunque 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 gli stanno abbastanza estrapolando il di avetana però io sono sicuro che ripeto dall'altra parte ho già visto nomi troppo troppo grandi cioè dai ma così è una reazione però ma con l'hai presa eh ti piace il cagnolino quello cibernetico eh che te l'ha lanciato Frank eccolo di nuovo minchia che bello il rullo come vorrei sapere usare il rullo si quando vedo gente come lui giocare mi viene proprio voglia di saperlo usare si e poi con il mio job è disincronizzato che va a destra a sinistra da solo sai come io mi divertirei chi è? full madre si si l'ho splattato già penso tre o quattro volte inizia inizia devo fare la maglietta io odio full faremo una maglietta presto in vendita sul sito questa volta è deciso invece di prendere un'altra strategia wow io si comunque potrei vomitare sembra di essere la giostra hai capito? si 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 ragazzi abbiamo mangiato pasta e ceci sai no? e quindi grande grande però no la zona sotto è cattiva sta mappa è cattiva e la modalità si e lui è come secondaria alla pioggia quindi neanche la può approfittare approfittare perché sotto il ponte chiaro bravissima cazzo guarda ti facevo più un po' meno però ma in sorpreso dai 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 che quello è tutto verde no Frank ma cos'hai scelto di fare? Frank potevi far mille cose ma fermarti lì dai è chiaro quando capito quella dell'arma secondaria cazzo è vero quando ha riconizzato dell'arma secondaria secondo me si è dovuto fermare ha detto no cavolo e vai oh nel frattempo entra anche Kuma ti aspetto ti aspetto gli ha detto mago tranquillo che ti aspetto Joy guarda la sorte la sorte dice che se non perdono la zona potrebbero vincere si se non la perdono però mi sa che la c'è una persa perché lì sotto c'è un bordellone guarda che casino che c'è stato sembra di essere in un cavalcavia di New York New York facciamo New York ma quanto cazzo sono british quando lo dico New York seriamente sembra una colonia vai 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 è risalito prima è morto lì ha avuto le palle io non l'avrei rifatto la seconda volta io morto una volta la seconda dico io non ci vado non stai scherzando gli ultimi 22 secondi 22 21 19 come la mia età 19 16 15 come si dice il numero dillo in tedesco dai scombustiamo tutti 7 9 basta stai zitto tedesco qua c'è la cinsura anti tedesco abbiamo messo Siri è stata una bellissima reaction sono successe mille cose divertenti dal mio punto di vista ti ringraziamo per aver giocato questa partita e ci piace ti mettiamo un like adesso ti spariamo un like perché noi siamo you poop ciao bello ciao ecco che tal chicos perdonai se il tempo passato passato si oh Frank per ovvi motivi psico economici ti devi aspettare fuori così almeno ti puoi andare a vedere il video boom chicos perdonai non hai leito nada vale buona 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 perfetto a leggere quanto puoi domani uno si caime vamos a hacer handicap match vamos a hacer la room nuova in esta partita che viene entonces spera hai comprado nel senso c'era la switch come la di mario odyssey me la compre no me compre la me compre l'edizione neon e gris e después mi compre lo mando de splatoon estos por separato porque quería l'edizione de splatoon en fisico no l'edizione digital entonces un segundo ragazzi porque jé ahora mismo no está aquí está milado creo fran frank tainz e questa è tu reaction con i fiocchi via l'alazzo dalle ok va que lo fai il ok dagli l'ok dagli l'ok frank 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 abbiamo pensato la stessa cosa cosa no 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 lo so eh ma ti sei andata via ok ma ok ma aspetta aspetta dove cazzare lo sei oddio ma è un super handicap match questo ah no aspetta aspetta stai tornando mati esguere dai fanta esguere io voglio sapere come si escuta la prima reazione perché in serio ma sveli è in questa hola o è la seguente david non dice hola hola e cosa pensi che c'è il chat no non lo so mi viene da llorare fanta che non si chiama più picchio si chiama fanta ah si claro quindi è la prossima io voglio vedere quella persona che ha scritto hola perché io ho messo hola hola passate un po' il diretto si no claro compotto perché sbaglio quel ragione colpito in pieno mako e non l'avevo visto sai lo stavo guardando che stiamo che stiamo in diretto live in diretto voilà la prossima è la prossima la ricrei per caso si chiaro si quindi ti svegli sarà la tua occasione per essere molto molto veloce è il dito più veloce si deve scrivere veloce quel numero porca la porca la porca la tastiera hai visto il sguere che c'è adesso? sguere 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 da lì qualcosa tu ti lo dica no ma io sono un egoista ole si Kate ora stesso adesso stesso ricreiamo conta fino a 279 e la tua room sarà fatta fatta no no eh minchia c'è svegli ma che hai fatto? perché è entrata? no perché è entrata svegli adesso dobbiamo far partire Sve per favore tenta di capirmi no Caleb si è cruda? che è cruda? non puoi fare una reazione di Sve così direttamente nel primo partito 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 sería un poco unfair per lei credo oi Ful seguimos parlando se vuoi qui siamo noi più o meno facciamo due stream ogni giorno quindi ti dico se ti piace qui siamo sì non siamo divertiti anche la trovava il protagonismo con la seconda reaction un pochino involontariamente sicuramente mi chiamo Melanzana e faccio parte della gang io sono senza semi io Melanzana sarebbe un bel nome se non fosse una verdura sai ma bellissimo guarda io mio figlio Melanzana chiama Zucchino venite a casa muoviti che piove Melanzana se non fosse una verdura dai chiaro come si chiama questo qui questo qui è Crocco sicuro un becante un becante chiaro che è Crocco ma non è sconosciuto come dice il suo si chiama Robert oh Adriano bene adesso guarda come si va schön che tu il nostro canale gefunden hai ok vai vai mi sta facendo paura bella svegli facci ridere adesso no questo sarà un tutorial di come una persona che nonca ha cucato a Splatoon ah se su prima partita vale ma simple che questa non può essere venga non è una reazione no ma non si bene ok ma l'abbiamo in casa leone oh leone ho mai niente niente di te ho mai niente ho mai niente di te la suya ma come cazzo parli salutami zucchina anche zucchina un bel nome no papà papà vado a dormire dal mio amico come si chiama zucchina e nostra casa beh si parte tu parli in spagnolo e quindi 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 e quando 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 normalmente quando dico questo partenare action invece qui no non parte una reaction qui parte la visuale di una persona che appena preso la switch e il gioco splatoon eccola qui una nostra amica da tantissimi mesi una delle più fedeli finalmente alla switch e svegli vai si spagnolo si si sto emozionada esto a diferencia de lo que suele pasar después de queste quindy 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 no va a ser una reaction sino che vamos a ver come come nuestra amica svegli che lleva tantissimi mesi in nuestro canal va a jugar su primer partido en splatoon porque acaba de tener la switch entonces vamos a ver como una persona nueva 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 se avvicina un poquito un poquito si a splatoon se avvicina un po a splatoon si bravissimo tu devi parlare in inglese no non lo so quindi vediamo che grossissime difficoltà nel movimento non ce n'è diciamo che è un gioco gestibile gestibile da tutti si si se nota che non tiene grandi problemi o difficoltà a l'ora de moverse e por lo che parece è un gioco che può essere gestionato per qualcuno e qui parte parte la risata satanica dico anche perché fino a ieri ha giocato a roblox quindi ci ha rovinato un player come ratti giocando a roblo penso che non abbia nessuna perca quindi è protetta qua tutti sono felici di vedere svegli di che por fin puoi da jugar con nosotros eh bella dai sve fa mi vietare come ammazzi qualcuno dai esatto è più maco la prima persona che splatini e splatoon deve essere maco ok lì devi guardare alla sinistra perché la base era lì si comunque brava amica almeno con il tempo sarà molto guai vedere come va evoluzionando e come cada vez va a essere più fluida vero? si chiaro 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 anche perché già va bene si si già va bene cioè meglio di quello che pensassi se devo essere onesto però ti sei spaventata lì è vero sve ti sei fermata e hai detto no 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 non salto non salto l'unica differenza che magari posso vedere tra le premier rr e giochi più giocatori che giocano da molto tempo e che magari sparano meno e camminano di più no? gli intervalli di sparo camminare si alterano si alterano nooo gli intervalli di sparo camminare si alterano e gli intervalli di sparo camminare se è maco e lo ultimo secondo oh guarda com'è come sculetta questo ha ticchi 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 oh sve benvenuta bentornata sempre con noi la prossima sarà una reaction te lo dico eh su questo te la passo come nabba di splatoon e detto questo detto tutto ragazzi grazie c'è 1400 punti è la prima partita no 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 chiaro io dico che dopo questa possiamo purtroppo chiudere la live si e invitare tutti a tornare per le nove nove e mezza massimo si ragazzi miei dobbiamo ancora andare a fare la spesa dobbiamo andare ancora a fare tante 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 cose però almeno la nostra tranquillità ce la siamo presa vi ringraziamo per il tempo che ci dedicate anche voi chiaramente e basta per noi come si dice un'allegria? l'ho detto noi la tranquillità l'abbiamo trovata l'abbiamo giocato tutti insieme os lo dico anche un po' in spagnolo che noi anche vogliamo ringrazio che sempre sei qui perché noi qui troviamo la tranquillità molti volte quindi grazie per il vostro tempo per investire per passare con i i godi chiaro no con la femmini la femmini e i godi tu i godi non sei i godi sono solo due o tre o quattro o cinque i godi con la femmini e i godi noi siamo lo che aiutiamo i i godi a crescere siamo lo supporto noi dei i godi vale ah sì si tiene quindi ragazzi anche un po' in tedesco noi finiamo il stream grazie a tutti che siete qui per giocare e noi ci vediamo ancora a 9 probabilmente sì ma comunque è forte 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 sì sì anche secondo me un secondo solo ragazzi prima di salutarvi vi dico che il video di Sveli lo sto mettendo ora 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 tu se vuoi fare una cosa vai io a salutare le persone vedo il che c'è qua è il i godi z v e l i voilà bene ragazzi guarda la prima che ho visto e incontrato è Sveli dov'è eccola facciamo così facciamo un zoom di Sveli guarda che bella questa è Sveli bene e questa chi è? non lo so non essere gelosa è Kate questa è Kate sono tutte le mie angels che si sono incontrati hai capito? queste sono tutte le mie angels io sono come Charlie's Angel io sono quello che parla al microfono e ha tante belle ragazze che gli fanno tutti le missioni impossibili questo è un maco si vede già da lontano e questo potrebbe essere non lo so però è ProGamer non è Sveli Frank è un maco e questo dietro è Pau si 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 maschera nera si è lui proGamer hello e chi c'è qua? non si sa è la nostra qua c'è Saretta Saretta nel banco claro col gatto oh dai basta abbiamo fatto salire il video di Sveli oh mi piace tanto e ultimo Ioni sempre qui fermo e tambien Mabel che non consiglio di salire questo rinconcito di Sveli allora ascoltate che metto ragazzi vi lascio guardare le ultime due cose che se vi fanno piacere sono il video di Sveli vi lascio il link veloce veloce e il video di Frank Frank non so se lo sai ma prima ti abbiamo registrato il match noi non gliel'abbiamo detto ah ah o no no Frank Sghere tranquillo che per le 9 siamo qua di nuovo sei solo arrivato buono un momento che stavamo chiudendo purtroppo madonna mia ma perché non riesco a scrivere Frank due punti valla Sarete io con il gatto ciccione peloso è bello il gattino e Sveli chicos per avere la reazione dei Sveli tenete che e sperare un par di minuti Sveli Sveli per vedere bene bene la tua reazione devi aspettare ancora un paio di minuti che la sta caricando io ve li lascio qua comunque Raichalolla we are closing the stream now see you next time ma quanto si scema Frank Frank hai giocato con gente forte Frank contro gente forte ah Raichalolla sorry oh no estamos cerrando cariñita estamos cerrando lo stream perdona volvete hai giocato in 2-3 oritas sì che vuoi che volvemos por aquí claro eh French eh French friend please eh add me add add the channel to your favorite channel so we can play in two hours ok povero Fanta oh Fanta dai tranquillo è super è super incazzato poverino lo so gioca con loro fatele su Discord ragazzi su Discord fate cosa dovete io adesso stacco perché devo andare a fare la spesa un abbraccio a tutti belli e brutti e io la sto mangiando perché ho fame ci vediamo dopo ciao ciao guaglio